Si è tenuto domenica 11 febbraio presso la Sala Duomo di Carpi il primo dei quattro incontri organizzati dal Centro Informazione Biblica, dal titolo Dove non c'è donna l'uomo gemerandaggio, Siracide 36-27, il formarsi di un ideale di donna nella letteratura sapienziale. L'incontro fa parte del ciclo 2024 dal titolo Ideale di fede e influssi culturali, il caso delle donne. Relatrice Nuria Kalduk-Benges, professore ordinario di Antico Testamento alla Facoltà Teologica della Pontificia Università Gregoriana. A lei abbiamo chiesto come nella Bibbia viene presentata la figura femminile, cosa si è fatto fino ad ora per l'inserimento della donna nella chiesa e cosa rimane da fare. Il Siracide come spiega l'importanza della donna al fianco dell'uomo che gemerandaggio? Ecco, la domanda non è facile, diciamo, da sintetizzare noi in poche parole, perché come dirò dopo, è il libro del Siracide, il libro diciamo sapienziale che più parla della donna, quindi il testo che lei ha citato è soltanto uno di una, diciamo, di una moltitudine di testi in cui la donna e l'uomo vengono presentati in una maniera che forse può urtare la nostra sensibilità. Quindi il Siracide scrisse verso l'anno 185 prima di Cristo a Gerusalemme. Lui era un saggio che si dedicava a insegnare ai giovani delle famiglie benestanti della città e quindi una delle cose che lui insegnava era la scelta della moglie. Quindi già con questo quasi ho detto tutto, stiamo in un ambiente patriarcale dove la figura del marito è il parametro, il canone, il paradigma e quindi la donna, la moglie, sempre è vista in riferimento al marito. Se prendiamo la Bibbia intera abbiamo come una galleria di figure femminili che oggi stanno al centro dell'attenzione dei biblisti, specialmente delle bibliste, che stiamo tentando un po' di riscattare tutte queste figure dell'anonimato, del silenzio, della dimenticanza che hanno sofferto per tanti anni. Possiamo pensare alle matriarche. Tutti noi abbiamo studiato sempre i patriarchi, le grandi figure, ma abbiamo dimenticato le matriarche, abbiamo dimenticato il grande ruolo che loro hanno avuto nella storia di Israele, ma non solo le matriarche, ci sono anche le profetesse. Tutti noi parliamo dei profeti, grandi profeti, sì, però c'erano anche delle donne che avevano il dono della profezia e anche le donne sagge, che nessuno, quasi, non dico nessuno, quasi nessuno conosce. Questo per parlare dell'Antico Testamento così velocemente. Se andiamo al Nuovo Testamento abbiamo delle figure, diciamo, molto più conosciute, no? Attorno a Gesù, tutte le donne che lo seguivano dalla Galilea, quelle che sono stati fedeli fino all'ultimo momento, le discepole. E quindi, se uno vuole studiare questa tematica, diciamo, è un filone che non finisce. Paolo, non parliamo di Paolo anche, tutte le collaboratrici che Paolo ha avuto nella sua missione. Quindi io direi che le donne nella Bibbia sono un punto essenziale, fondamentale da riscoprire. Cosa è stato fatto fino adesso? Diciamo che parecchio. Dobbiamo essere anche riconoscenti a tutti gli sforzi che alcune persone, alcune autorità all'interno della nostra Chiesa hanno fatto affinché noi possiamo avere, diciamolo così, più spazio, più opportunità. Anche se, come tutti noi ben sappiamo, il nostro spazio di azione è limitato e quindi ancora la donna non è, diciamo, accettata nelle posizioni di potere. Non è che vogliamo potere, però non è accettata, non è invitata a prendere parte, sì, in quei posti dove potrebbe prendere delle decisioni. Questa è la cosa importante, dove la sua voce potrebbe avere un'incidenza e quindi io penso che questo è un po' l'ostacolo principale con cui in una maniera o un'altra, in un momento o un altro, la Chiesa dovrà fare i conti. Ricordiamo che domenica 25 febbraio si terrà il secondo incontro alle ore 16 dal titolo Gesù le replicò, donna, grande e la tua fede. Il progressivo emergere delle donne nel racconto evangelico. Relatrice dell'incontro, Marinella Perroni.